Nella bomboniera del Palazzo Comunale Città di Alassio, sabato 8 settembre alle 21, patrocinato dal Comune e dal Sindaco Marco Melgrati, si è esibito il complesso musicale Città di Alassio, diretto dal maestro Giovanni Puerari, di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni, alle autorità cittadine, rappresentate dal Vice Sindaco Angelo Galtieri, dal paroco Monsignor Angelo De Canis, dal Comandante dei Carabinieri Massimo Ferrari e da rappresentanti di diverse associazioni. Il programma, illustrato dalla Presidente Renata Vallò, è iniziato col ricordo doveroso della tragedia di Genova sul motivo di Maseghe Pensu e ha toccato poi gli aspetti più celebri della musica bandistica, tra cui stelle strisce, sabre dance e the second waltz, del repertorio operettistico come Tace il Labbro e dell'ambito operistico, quale Nessun Dorma. Le interpretazioni professionali del soprano Melissa Briozzo e del tenore Andrea Elena, spesso in duetto, hanno arricchito il repertorio musicale in modo splendido e gradito. È stata una serata piacevolissima, evidenziata dai calorosi applausi e dai consensi entusiastici dimostrati dal pubblico sia durante lo spettacolo che al termine.